La parola di Maran, trappela qualcosa? Trapela solamente una parolina, secondo me magica, deve essere poi la chiave di volta di Livorno, atteggiamento, cioè il Catania deve ritrovarsi, deve ritrovare il suo spirito, la stessa squadra e lo stesso DNA che ha mostrato negli ultimi anni, soprattutto nella passata stagione. Credo che questa sia la chiave di volta, a prescindere dai moduli, a prescindere anche da chi vada in campo. Quindi per quanto riguarda la formazione, è anche già ipotizzabile l'esordio di due dei tre nuovi che non hanno ancora indossato la maglia rosso giuro? Sì, questo sì, lo vediamo anche attraverso la grafica, abbiamo provato a imbastire quello che potrebbe essere il 4-3-3 del Catania, Catania che potrebbe lanciare dal primo minuto intanto Cristiano Biraghi e non Monzon sull'auto di sinistra, possiamo vedere la formazione, poi Spogli e il recuperato Bellusci perché è stato convocato e potrebbe scendere in campo proprio al centro della difesa ricomponendo la coppia di centrale con Spogli. Alvarez è confermato a destra con Angundukar tra i pali e poi la novità, come dicevamo, un'altra, quella di Plasil. L'ha detto anche Marane, un giocatore fatto, grandissima esperienza, non ha bisogno di nessun tipo di educazione tattica, un giocatore come Plasil e quindi va in mezzo al centrocampo. L'unico dubbio, vedendo ancora la formazione, è quello che riguarda Guarento, Taxidis deciderà Marane anche nella rifinitura, quindi vedremo un pochettino ha quasi deciso, ci penserà con Almirono che giocherà come terzo posto al centrocampo mentre nel tridente Castro sembra favorito su Leto, almeno dall'inizio Leto ancora non ha i 90 minuti quindi deve decidere Marane come gestirlo nell'arco della partita. Poi Berghese e Barrientos non si toccano. Quindi questa è la formazione 4-3-3? Sì, 4-3-3. 4-3-3 e per quanto riguarda il Livorno abbiamo delle novità? Andando a vedere invece la formazione del Livorno, la vediamo subito, 3-5-2 confermato per la formazione di Nicola che rimette però nell'autodifensivo Coda, inserisce l'esordio dell'ex giocatore dell'Udinese accanto ad Emerson e Valentini nella difesa 3. Schiattarella e Duncan saranno i due esterni, c'era balottaggio tra Duncan e Gemity, ma lo vince il giocatore di proprietà dell'Inter in mezzo Luci che è il capitano con Greco, ex Roma e Biagianti, ex Catania, sarà il grande ex della sfida davanti attenzione alla coppia veloce e Megara-Paoligno. Ecco, tra l'altro si è parlato molto di questo ex di Biagianti cui l'ufficio stampa ha chiuso la bocca, peraltro lui è stato a Catania ma non ha potuto parlare di calcio ma ha parlato del cielo, del tempo, degli amici, della buona cucina... No, lo so Umberto, però a volte c'è troppa gente che si prende sul serio, troppo sul serio... Pazienza, le società sono blindate da questo punto di vista... In ogni caso appunto lui aveva già salutato il suo pubblico, i suoi tifosi con un messaggio esplicito... 148 presenze e tre reti con il Catania per l'ex capitano Rosso Azzurro... Che partita farà secondo te? Sarà la partita della vita? Ma non lo so, è chiaro che per lui sarà una partita particolare perché affronta i suoi ex compagni... Come prima partita peraltro, come prima partita con la maglia del Livorno, ironia della sorta... Sì, sì, secondo me la viveva peggio se avesse giocato la partita al Massimino, al picchio è una partita diversa... È diversa, con i suoi nuovi tifosi si deve anche presentare ai compagni, ai tifosi, ai tecnici, eccetera... E di fronte proprio il Catania, insomma, vedremo un po' che partita vedremo... Non ti chiedo un pronostico, però dovrebbe essere una partita comunque sotto il profilo spettacolare e interessante... Anche perché questo Nicola è un allenatore emergente... È un allenatore che si adegua molto, poi faremo vedere anche la fase tattica, no? Quando vuoi tu andremo a vedere un po' delle soluzioni, se voi lo possiamo fare anche adesso... Direi a questo punto, prima di passare alla festa Rosso Azzurro con Catania e Ama Catania, direi proprio di sì... Guardiamola subito, guardiamo subito le soluzioni tattiche... Sì, guardiamola prima dove abbiamo messo il tridente della Catania... Castro, Bergessio e Barrientos contro la difesa a tre del Livorno... Il Catania deve cercare, soprattutto con questo signore qua che ritorna, dovrà cercare l'imprevedibilità e la luce... Quindi il Pitu Barrientos dovrà cercare, soprattutto, di sfruttare le zone centrali del campo... Per poi dare profondità magari a Bergessio e anche a Castro... Perché saranno importanti i due giocatori, soprattutto nella profondità... Nel cercare di prendere in contropiede la difesa a tre del Livorno... Il Livorno, attenzione, perché picchierà molto, eh... Con Biaggianti, con Greco e con Lucci... Non significa che è una guerra, però sai... Metteranno molto i muscoli là in mezzo contro Almiron e Plasile... Il Catania deve sfruttare, soprattutto questa situazione qui... Che è una importante, quella di Barrientos e di Plasile... Che si possono infilare quando il Catania cercherà di sfruttare l'ampiezza, soprattutto con Castro... O con le discese anche di Biraglio Monzono... La difesa del Livorno può tendere, come tutte le difese a tre, ad allargarsi... Questo potrebbe creare lo spazio proprio in mezzo, sia per la profondità di Bergessio... E sia soprattutto per gli inserimenti centrali, dove lo spazio ci sarà, di Almiron, Plasile e Barrientos... Altra soluzione potrebbe essere un'altra, che è questa qui... E ti faccio vedere, che è lo sfruttamento della seconda palla... Dove il signor Pito Barrientos è bravissimo a mettere il pallone dietro la linea dei difensori del Livorno... Quindi in quel caso, ecco forse la scelta anche di Castro... Che è un giocatore che attacca di più la profondità rispetto a Leto... Castro e Bergessio devono essere pronti sul filo del fuorigioco... A prendere questa difesa a tre del Livorno in contropiede... Per quanto riguarda il Livorno, il Catania deve stare attento... Sembra quasi scontato a questi due... Emegara e Paoligno... Paoligno ha un gran tiro dalla media distanza... È uno che difende molto bene la palla... Attenzione ai calci di punizione anche di Greco... Ma attenzione soprattutto all'uno contro uno... All'uno contro uno, scusatemi... Uno contro uno da parte di Emegara contro Spolli... Potrebbe essere una partita molto importante per la colonna della difesa del Catania... Sappiamo che Spolli ha tanta esperienza... Ma attenzione a Emegara perché tra le linee e soprattutto nelle sue diagonali... È molto ma molto pericoloso... All'esordio ha già messo dentro due gol proprio contro il Sassuolo... Gli uomini decisivi da una parte o dall'altra? Per me è Barrientos... Barrientos e metto dentro anche Plasile... Perché secondo me è un asse molto importante... E dall'altra? Dall'altra mettiamo la museruola ad Emegara... Il Catania deve dare poca profondità al Livorno... Deve cercare di stare compatto con la linea difensiva... Non deve dare troppa luce... Deve cercare sempre di fare la partita e di tenere il pallone... E ci vuole pazienza contro il Livorno... E' proprio così... E' proprio così... E' proprio così...